Oh, tu! C'è la patta dalla rosa Cara 3, cara 3 Game 3! Non quadro, solo le carte Ho 4 di merda No, non me ne devi mettere qua davanti Potrebbe essere una buona piscata Oh! Che fai? La vada al mondo e vinceremo noi, ma è cattuo Che vincito? Eh no, dai Cazzo è stato di parli tu, la vada al mondo e io vincito Oh, la tassa sì, tu e no, stupido Oh, che... che fai? Sarebbe una buona presa Fiamco Sosti, non ti devo parlare a Fiammame, non vetti, ma che cazzo fa? Vabbè, la mandi a si, forse... La mandi a Monti, la mandi a Monti, vincito io La mandi a Monti, la vai Vabbè, manda a Monti, dai Lo sfido a Monti, no, no Lo sfido a manda... Lo sfido a manda a Monti, forse Dai, non vanno tutti ieri Questa di capo Perfitto Scala 3, stupido Com'è questo? C'è questo? Si, 1 anno non stavo questa è decisiva decisiva questa? è una tre decisiva ma lì c'è da facciamo una piccola oh vabbè allora chi viene? Betti come ci passavamo dentro? e due mani nel progine statistica statistica alla mano dicono che Betti prende due mani nel progine in tre partite tu gioca bravo bene oh te metti in campo una gatta di governo rompere i coglioni ce l'ha brisca la roba allora che la puoi ahahah hai capito hai capito il cattolio mannaggia la mano ma tu la ragazza me lo so chiara tutti i cattolini sono il gelai quando giochiamo a denario qui si sta chiamando ahahah ahahah c'è la corvetta allora alla giacola ragazza chi fai i denari che è un effetto che figlio io c'è niente ottimo come lo spia quattro staglio di vecchia ma lì c'è 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 sembrano Noi non ci hanno fatto un buccio di volopatia questi Avrò più con delle mani di 80 punti Ehi! 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 Ma che rischio! Questi ci danno per fatti noi no! Ma non ci ha la mano Oh, andiamoci a rischio! Oh! Oh, non ci hai messo i capelli! Oh, non ci hai messo i capelli! Si, c'è chi ha fatto i capelli! Oh, poi ci ha muo' di più! Lascia i capelli! Si, c'è chi ha fatto i capelli! Oh, no! Oh, no! Eh, vabbè! Vito! Un po' fuori! E qualcuno... Si, va! Guarda queste carte! E' famoso giuricato! Ma non mi sa che hanno vinto! Ehi! Ma non mi sa che hanno vinto! Ehi! 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 Il triangolo ha funzionato! Ehi! 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 Io sono la scientifica del verde! Che c'è stacca Cuba! Amolineni ma che vai a comprare? Chi ne fa meno! 34,45... ... io assi sono! Ma io sono la sannata, stai! Ah, io ti erano visto il rischio". Sì! Ehi! Ma che stacca è normale? Quattro, 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 quattro! A ferm motivo! il e di un'altra pericolosi ma già la madonna la mettiamo tutto noi uuuu scontata scontata la mangiare la delegata come bocca cerca quello che ero sia che ha fatto che ha detto qui? da lo steve center di christmas palace ti conferma il 2 a 1 campioni del mondo macchiaccio e pezzi vado la linea a roma bella